pietro bisanti maurizio fracon ho intenzione di analizzare questi due personaggi torno a parlare di loro perché recentemente ho visto ancora più video e voglio fornire una mia visione un mio punto di vista su di loro ok la mia opinione partiamo da pietro bisanti allora quest'uomo vive nel nord d'italia vive nell'oltrepo pavese lo definisco un uomo che va a risvegliare gli esseri umani un uomo che al di là delle teorie igieniste va a far sì che un essere umano non dorma in piedi si svegli si risvegli e che soprattutto prenda coscienza prenda consapevolezza di quelle che sono le scelte che andrà a compiere questo che significa significa che se un essere umano decide di compiere una scelta la deve fare la deve prendere non perché gliel'ha detto il medico non perché gliel'ha detto lo psicologo non perché gliel'ha detta qualcun altro ma deve essere padrone delle scelte che va a prendere a prendersi ok questo che significa che se un essere umano va a fare cioè se un essere umano riceve da un altro essere umano l'obbligo di fare il vaccino lui stesso deve prima schiaffarselo nel culo come lui stesso dice come bisanti afferma e poi faglielo fare a quella persona che bisogna farglielo fare ok quindi questo che significa che bisanti responsabilizza le persone fa capire alle persone e dice persone svegliatevi datevi una bella svegliata perché dovete eseguire la massa perché dovete eseguire quello che vi viene inculcato perché dovete rimanere nella vostra rincoionaggine svegliatevi non siate schiavi delle regole non siate schiavi di ciò che vi viene detto di ciò che vi viene propinato siate liberi pensatori pensatori autonomi indipendenti e lasciatemi dire che bisanti in questo ha ragione le teorie geniste la mia opinione di teorie geniste di bisanti in alcune cose vanno seguite in altre no in molto va seguita la medicina ma l'idea di risvegliare gli esseri umani che è presente in pietro bisanti io la sposo in pieno e dico pietro sei un grande perché bisogna fare così bisogna risvegliare la massa il popolo il popolo purtroppo dorme gli viene detto una cosa il popolo prende tutto per buono non so se vi ricordate quando c'era il duce no pietro bisanti caro pietro ti ricordati quando c'era il duce no quando parlava da piazza venezia dove abilare roma e parlava al popolo il popolo si beveva tutto ciò che diceva lui diceva qualsiasi cosa il popolo è sì bravo quando nella realtà dei fatti quello che andava dicendo il duce in molte cose era sbagliato era fallimentare in altre anche ragione sia 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 sono sincero con voi esimi utenti di youtube ma per molte cose moltissime non andava bene ciò che proponeva il duce ok quindi bisanti è un esempio di vita e poi lui ha fatto parte dei carabinieri quindi sa bene che è ora di dire basta di non seguire sempre le regole e di pensare con la propria testa bisanti fa questo dice pensate con la vostra testa non pensate con la testa di un medico non fate i vaccini solo perché ve l'hanno detto ve l'hanno imposto fate i vaccini perché siete consapevoli di volerli fare ma prima fatele su voi stessi e poi li fate fare gli altri ed è un'idea questa che sposo in pieno ok quindi bisanti promosso voto 9 va bene maurizio fraccon un ottimo medico simpatico divertente e lo cuace mi piace di fraccon il fatto che spiega le cose a 360 gradi che spiega cioè lui dice guardate che questa è una cosa non vera e motiva fornisce motivazioni valide efficaci e invita le persone a farsi curare a rivolgersi dai medici che era la sua categoria di appartenenza su questo ha pienamente ragione perché chiaramente un medico un medico riuscirà a mettere mano per esempio al mio cuore io ho il mio ossidio che ha avuto degli infatti se è vivo oggi lo deve a un cardio a un cardiologo che gli ha salvato la vita altrimenti moriva quindi un medico sa fare cose che per esempio un igienista io credo non possa e non sappia andare a fare quindi l'igienismo va benissimo mi piacciono le teorie igieniste perché sono utili prendere sole mangiare sano fare attività sportiva bere acqua pulita buona cibo compatibile stile di vita corretto via fuori dai coglioni persone che non portano felicità gioia amore nella nostra esistenza mi sta benissimo però bisogna anche vedere la medicina quello che dice e molte cose della medicina io le sposo in pieno maurizio franco perché mi piace franco perché lui spiega lui se io gli sottopongo un quesito lui mi spiega perché io dico perché questa cosa qui maurizio lui dice guarda leandro per questo questo e quest'altro motivo cioè lui mi informa bene spiega e si mette anche in condizione di avere le palle per rispondere agli altri quindi è un uomo che io considero un valoroso un coraggioso una persona tenace intelligente garbata va bene io con lui ci ho parlato un po' di volte anche in qualche live ho avuto una buona opinione di lui anche in una live purtroppo in una live sono scappato via perché avevo da fare e al tempo stesso non riuscivo a tenere testa a tutti quanti anche perché c'erano anche altre due persone che non conoscevo quindi avevo difficoltà però spero di poter tornare in una live dove posso parlare e fornire la mia opinione senza però caro Maurizio diffamare perché non voglio diffamare bisanti non voglio diffamare nessun essere umano perché non voglio diffamare non voglio entrare nel circolo brutto rischioso della giustizia però informo che sì effettivamente penso che Farakon abbia ragione in molte cose che va dicendo e un medico ripeto secondo me ha più competenze a livello pratico di per esempio un igienista mio zio se non l'avesse operato un cardiologo mio zio probabilmente sarebbe morto perché era arrivato in arresto quasi cardiaco in quanto mangiava molto mangiava male e le placche cioè le sue vene del cuore sono le aorte sono ostruite probabilmente per il cibo che mangiava un cibo sbagliato ricco di grassi e di trigliceridi va bene detto ciò quindi voto a Farakon 9 9 anche a Farakon quindi sposo le teorie di Farakon Maurizio sposo le teorie di Bisanti Pietro mi piacciono entrambi io dico a tutti evitate a tutti e due dico evitate di farvi guerra evitiamo di farci la guerra siamo tutti esseri umani entriamo in simbiosi facciamo combaciare i nostri pareri i nostri giudizi per aumentare il bagaglio culturale degli esseri umani io trago da Bisanti e da Farakon quel che voglio e mi completano entrambi fanno sì che io vado ad avere completezza da ciò che ascolto perché entrambi completano il mio bagaglio culturale esperienziale scientifico e igienista di igienismo ok e Bisanti è colui che sveglia le coscienze fate qualcosa dovete essere consapevoli convinti di farle se no non le fate mai perché non dovete mai abbassare la testa agli altri ma dovete fare le cose in maniera coscienziosa consapevole attenta diretta ci dovete credere le cose che fate questo è ciò che dice il buon Bisanti e ha pienamente ragione sposo in pieno le sue teorie da Leandro conoscitore italiano di Roma è tutto un abbraccio forte sentito stretto a Maurizio Fraccon un abbraccio stretto sentito e forte a Pietro Bisanti ragazzi vorrei che faceste la pace anche se guerra non c'è mai stata tra di voi secondo me ma che entrambi possiate a divenire a completare gli altri esseri umani e non soltanto Leandro conoscitore italiano e narratore italiano dal vostro Leandro di Roma è tutto il video termina qua un sentito ringraziamento a Maurizio Fraccon a Pietro Bisanti per tutto ciò che stanno facendo nell'arricchire noi esseri umani volete un consiglio da Leandro? seguite entrambi seguite entrambi conoscete entrambi ascoltatevi bene traete le vostre conclusioni seguendo da entrambi ciò che dicono e non vi preoccupate se magari sentite qualche parola in più perché lo sforzo che fa Bisanti è tanto lo sforzo che fa Maurizio Fraccon è altrettanto elevato e bisogna apprezzarli per ciò che vanno a dire a stabilire e perché entrambi ci mettono la faccia come io stesso come il sottoscritto Leandro fa ciao iscrivetevi mi raccomando iscrivetevi al canale un saluto caro al prossimo video da Leandro di Roma